E quindi salve a tutti, sono Piruva2007 e bentornati di su, le teorie videoludiche di Slime Rancher. Oggi parleremo del pre-gellastico. E qualcuno di voi potrebbe chiedersi perché pre-gellastico? A parte che perché viene prima del gelastico. C'è un motivo che vedremo dopo. Fatto stare che parliamo del male di Slime. Gli scienziati dei Slime ipotizzano che tutti gli Slime siano usciti dallo Slime Sea. Se siano tutti originali dello Slime Sea. Un po' come noi umani. Noi umani infatti se dovete sapere che tutte le specie sul pianeta, anche il vostro gatto, il vostro cane, insomma tutte, provengono alla fine da creature che vivevano in acqua. E se questa cosa, stessa cosa, sembrerebbe gli Slime. Quindi, quali potrebbero essere mai più i Slime, come posso dire? Che c'erano il pre-gellastico? I primi? Beh, a parte il primo che non conosceremo mai. Che mi immagino una roba tipo lo Slime rosa. Che si riesce a mangiare tutto, ma anche oltre lo Slime rosa, avendo anche le caratteristiche potersi. Ci dovrebbe proprio di qualsiasi cosa. Mica solo del cibo. No, no, tipo anche dell'acqua che è come gli Slime d'acqua. E infatti poi questo Slime ha generato due specie. Slime d'acqua, ovvero i Paddle Slime, no? E gli Slime fossili. Quindi possiamo immaginarsi una creatura, magari con una forma simile vagamente allo Slime d'acqua, che riesce a uscire a nuotare nelle acque dello Slime Sea, che poi si è divisa, si è evoluta in due specie, ovvero Paddle Slime, che si è adattato meglio all'acqua, e lo Slime fossile, che invece andava magari già un pochino poco sulla terraferma a mangiare qualcosina. Quindi gli Slime fossili hanno raggiunto la terra, ferma, intendo, e hanno iniziato a abituarsi alla zona. Insomma, loro già riuscivano a vivere anche in acqua, però qualche volta andavano anche sulla terraferma. Erano tipo anfibino. Pian piano si sarebbero evoluti per stare più di più anche sulla terraferma. Anche quello così, Fosforo e Pink Slime. I Pink Slime, per abituarsi meglio, hanno iniziato a mangiare qualsiasi cosa, un po' basandosi sul loro originario antenato. Fosforo Slime invece mangia in specifico frutta, ma ha la sua caratteristica luminescenza e quelle alette barra pinne, possono tornare utili nelle acque, quindi là non si sono troppo allontanati gli Slime dal mare di Slime. Non che ora siano tanti istanti, lo utilizzano per andare in giro, però erano più attaccati al mare di Slime. Successivamente, lo Slime Fossile si è evoluto anche negli Slime di roccia, che poi vedremo porteranno agli Slime di cristallo, e agli Slime di denti a sciavola pre-gellastico. Quelle immagini che stiamo vedendo con quegli Slime sono le immagini dello stile segreto dello Slime di denti a sciavola, che si chiama appunto pre-gellastico. Pre-gellastic. Quindi sarebbe lo Slime di denti a sciavola prima del Gellastico. Quindi in poche parole abbiamo un antenato del Saber Slime. Saber Slime pre-gellastico si è evoluto dal Pink Slime, che per non mangiare semplicemente tutto, si è adattato per mangiare la carne. E ovviamente ancora in giro possiamo trovare qui i Slime Fossili, sempre nel Slime Ranger del passato, cioè nel pianeta Farfar Ranger del passato. Poi, come abbiamo visto, si arriva alla fase del Gellastico, che inoltre c'è da chiedersi di come si sono istinti tipo Saber Slime e altre creature, ma vedremo il futuro. E insomma, direi che però per questo video può anche essere tutto, noi ci vediamo in un prossimo prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.